Questo aeroplano era stato concepito per avere una terza superficie portante, ossia un aereo normalmente ha la sua ala che è baricentrica rispetto alla fusoliera e poi i piani di coda che contrastano il momento di rotazione e l'intuizione di Morelli e Mazzoni che sono gli ideatori e i detentori di questo brevetto è stato quello di spostare verso il retro questa ala e sostanzialmente per bilanciare l'effetto di rotazione hanno messo una terza ala portante sul muso anteriore, questo ha consentito di avere un'ala più piccola arretrarla quindi avere una cabina di fusoliera più capiente e poi montando i motori spingenti introduceva varie innovazioni che per l'epoca in cui è stato ideato, direi negli anni 70 se ricordo bene era veramente visionario Piaggio non dimentichiamo che è impiantata in una finale comunque dove quasi tutta la popolazione aveva un parente che lavorava all'interno dello stabilimento, era sostanzialmente una grande famiglia per un buon primo anno, primi due anni sostanzialmente si è fatto questo grosso lavoro di ricopiatura dei disegni non era una semplice ricopiatura perché ovviamente andavano introdotte tutte le migliorie non nego che è stato un momento difficile perché ovviamente era tutto nuovo e si introducevano un po' di errori per fortuna c'era un'ottima catena di controllo e di filtro nel senso che dopo l'emissione dei disegni da parte dell'ufficio tecnico c'erano una serie di uffici deputati al controllo, verifica, quindi prima dell'approvazione ufficiale venivano sostanzialmente, entravano in un giro per cui venivano ricorrette le cose che erano state introdotte in maniera errata una cosa che è diventata, dopo sei mesi grossomodo le parti che venivano disegnate poi entravano in produzione e quindi si innescava la fase di feedback per cui dall'officina avevi il riscontro se il lavoro che avevi fatto era corretto o meno e non nego che ho passato parecchio tempo con gli operai, con i montatori piuttosto che con chi realizzava le parti singole a discutere delle cose che non andavano e quindi a rimettere la posta, questo è stato veramente formativo Devo dire che l'ambiente era un ambiente da una parte giovane perché insieme a me erano entrati anche altre 4-5 persone coetane ma c'erano i miei colleghi strutturisti piuttosto che aerodinamici che avevano alle spalle parecchia esperienza ed erano disponibilissimi a trasferire le loro conoscenze per cui è un momento di crescita eccezionale quindi per un ragazzo giovane era veramente manna perché si poteva imparare a volontà e questo ho cercato di fare, sono stato avido nel capire quello che sapevano fare i colleghi e cercavano di appunto insegnare Devo dire da altra parte che anche la dirigenza era all'epoca abbastanza illuminata e oltre a guardare quello che era appunto il prodotto interno, questo P180 si guardava anche intorno per cui c'erano svariate collaborazioni con il resto del mondo dell'aeronautica civile e militare italiana e anche straniera per cui c'erano parecchie collaborazioni con aziende estere per cui Piaggio produceva per conto terzi motori su progetti Roll Royce piuttosto che l'Ecoming e anche parti di velivolo per conto terzi di fatti la mia esperienza dopo aver lavorato sul P180 è stata un'altra collaborazione che è nata negli anni 90 da una joint venture tra Piaggio all'epoca Air Italia è diventata poi a legna e la Dassault che stava progettando un nuovo velivolo della classe Falcon sempre parliamo di business jet come il 180 però a differenza dal 180 con turbo elica in quel caso parliamo di business jet con motore a reazione e questa collaborazione è sfociata sostanzialmente nell'acquisizione da parte di Piaggio della progettazione quindi la responsabilità di progettazione e costruzione di un troncone di fusoliera di questo Falcon 2000 e ci ha visto coinvolti sostanzialmente buona parte dell'ufficio tecnico è stato praticamente mandato in missione presso gli stabilimenti di Bordeaux Merignac di Dassault Aviation dove abbiamo trascorso sostanzialmente un sei mesi a impostare quello che era il lavoro che poi avremmo dovuto sviluppare devo dire che quello che personalmente mi ha fruttato è il poter crescere professionalmente all'interno di un'azienda che dove sostanzialmente c'erano gli albori appunto l'utilizzo dei calcolatori per la progettazione che ormai è pratica diffusa anche nelle piccole realtà ma difficilmente si poteva trovare una realtà di questo tipo in altre situazioni nella sostanza sono due realtà se vogliamo simili per tecnologia perché se parliamo di una vettura di Formula 1 sostanzialmente l'aerodinamica è quella se vogliamo di un velivolo a rovescio nel senso che le ali sono montate a rovescio al posto di creare portanza bisogna creare deportanza ci sono altre implicazioni ovviamente per l'effetto suolo e quant'altro che nei velivoli per fortuna non ci sono ma in buona sostanza c'era questo trasferimento tra l'industria aeronautica e la Formula 1 c'è sempre stata e quindi è stato uno sbocco abbastanza naturale grazie a tutti